Donne che rubano tanti soldi a un anziano e donne che scoprono le presunte ladre. Un 99enne ingegnere padovano deve ringraziare il sesto senso di una sua vecchia amica se ora i suoi conti correnti e i suoi beni immobili sono bloccati e affidati a una amministratrice di sostegno incaricata dal tribunale. Due delle tre badanti del quasi centenario, due padovane di 60 anni, sono state indagate per circonvenzione di incapace. seguivano da tempo l'anziano ingegnere solo e senza parenti prossimi e, secondo le indagini, sarebbero riuscite a impadronirsi di almeno un milione di euro. Come abbiano fatto è al vaglio della magistratura, se con assegni firmati dall'anziano, con tanti oppure con deleghe alla firma nel conto corrente bancario del signore. Una delle due si sarebbe perfino comprata una casa da 300.000 euro. A scoprire il caso l'amica dell'ingegnere, convinta che a movimentare i conti dell'uomo fosse stata un'altra anziana, loro conoscente comune. Non era così ed asporto denuncia. Gli accertamenti hanno rivelato che a sottrarre denaro e proprietà all'ex professionista sarebbero state le due badanti. Le indagini proseguono per verificare le firme su bonifici, giroconti e contratti.